George W. Bush diventa Presidente grazie a una sentenza della Corte Suprema che si basa sull'assegnazione di 523 voti in Florida. L'America è sotto shock perché mai prima era stata una sentenza di giudici ad assegnare la Casa Bianca. Io mi ricordo ero a Washington in quei giorni, l'impatto fu molto forte, i democratici dissero subito è un Presidente delegittimato, ma fu il loro candidato al Gore, il primo a riconoscere la validità di quella sentenza e nella scelta dello sconfitto di assegnare la vittoria al rivale grazie a una sentenza della Corte Suprema c'è tutta la grandezza della democrazia americana.